Il 25 aprile in memoria di tutti coloro che hanno dato la propria vita nella guerra e nella lotta partigiana per darci la libertà. Questa libertà che ci siamo conquistati sulle montagne non vale sempre. La libertà è un bene prezioso. La libertà è un bene prezioso. La libertà è un bene prezioso. Gampi ha un obiettivo fondamentale, difendere la Costituzione conquistata dai partigiani, difenderla, pretendere che venga applicata, difendere la democrazia. Perché un popolo quando resiste, resiste come popolo e del popolo fanno parte dei cittadini e dei cittadini. Anzi, per la verità, i cittadini sono di più dei cittadini. Anzi, per la verità, i cittadini sono di più dei cittadini. quando si venne il momento della scelta fu chiaro che la scelta giusta era quella. e ci avevano infilato in una guerra pazzesca. ci sentimmo come liberati da una cappia. ci rendemmo conto che fino ad allora eravamo stati in cappia. Quello che vogliamo essere, anche se non ci saranno più partigiani, noi continuiamo a essere quelli che difendono la democrazia e la Costituzione. Qulich certo你看to che non c'erano più creature, dicemple pero non c'erano più vere. Grazie a tutti